bentornati ragazzacci e benvenuti sulla prima volta di vedere questa pace passate su questo canale io sono ariar e oggi andiamo sempre su star wars battlefront ma andiamo a vedere la parte multigiocatore relativa allo scatola di caccia ecco il giochino nel gioco ce ne sono varie modalità dentro battlefront ma il gioco nel gioco di battlefront è questo andiamo a vederlo subito senza perdere troppo tempo e vai e partiamo direttamente nei panni di luke skywalker una forza è con me attenzione abbiamo caccia nemici in arrivo teneteli lontani dalle nostre navi da trasporto questo si è già suicidato che c'è sta qui da prendere tempi di ricarica accelerati perfetto sono in coda capo rosso questo è un pilota ragazzi intercettore tai distrutto ci sono mosse evasive che noi facciamo con la tastiera seguendo premendo i pulsati 1 2 3 e 4 mi ricorda un po' war thunder vero eh lo so anche a me certo non ha come war thunder il fatto che ti si rompe l'aereo devi atterrare per l'ho plisciato bastardo guarda come si è piegato cerchiamo di scappare siamo scappati dovevo scappare ragazzi siamo colpiti andiamoci a prendere da queste parti madonna ragazzi riparazione veicolo ma avete visto che barba gli posso aver fatto ecco stronzo mi ricordo di te ciao divertiti dove sei dove sei ecco te là ti ho trovato mi sono in coda preso chi sei te e quindi così spavano allora ve lo accorgete quando sono piloti perché sono più rapidi nei movimenti rispetto ai bot chiamiamoli così vedi questo è in pilota perché guarda scende giù quindi è un player come voi me ne vado me ne sono andato ma che fa mi faccio schiantare non è il caso preso al volo madonna mi scontro con un compagno vero ciao divertiti anche tu eh preso la riparazione veicolo madonna sta a fare un partitozzo mi ha preso un chiodato mi ha preso il cretino oh ragazzi siamo terzi ecco questo è un player dove sei brutto stronzo risciato bello mio ti seguo ma mi nascondo ti seguo ma mi nascondo mazza quanto fuori che palle ho fatto brutto a missile sto stronzo però muori adesso e lo so lo fa dobbiamo allontanarci da vittoria ragazzi vittoria se fosse stato così sarebbe stato vittorio siamo finiti quarti vabbè tre uccisioni sette uccisioni tre morti vabbè niente ho finito i colpi dietro di te dopo che mi ha secchiato ma ha detto vabbè vogliamo vedere com'è qua oh ragazzi continuate così uh questo è quasi morto vediamolo me l'ha fregato fanculo ok però che cazzo di effetto ragazzi si sentono anche il rumore della cabina ok andiamo giù da questo continuate a sparare non dategli tregua dov'è 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 non vedo un cazzo oh finalmente andiamo subito a riparare riparazione veicolo grazie caro no ragazzi non ci riesco a giocare così devo vederlo ciao caro guarda quanto ci mette questa a morire oh a merda via a ripararci ripararci ripariamoci riparato ok ristiamo un'altra volta qua vabbè potenziamento millennium falcon cazzo ragazzi ciao divertiti non penso proprio oh grande ianzolo grande agganciate quella navetta imperiale fuoco a volontà si stanno agganciando prendi col cazzo oh mi sa che me prendo invece merda e vabbè l'ho presa e vabbè torniamo in battaglia ma fai i cazzi tu fai calma è andato è andato è andato è qua quello l'hanno preso perfetto dai 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 questa volta però nei panni dell'impero tanto è andato a prendere subito ma questo è questo ma ci ha giocato pure prima ma sempre loro so ha pure cambiato e questo non è nato 6 6 7 trooper ciao the trooper agganciate la nave da trasporto nemica distruggetela vaffanculo player de merda questo c'ha duemina scuri diverte di chi gli scuri eh madonna non lo so che ho fatto ragazzi sempre questo sto ammazzato ti ho distrutto questo eh vabbè pure a me vabbè sto secondo vabbè ci possiamo stare dai continuiamo 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 non mi arrendo io becco sempre la squadra de merda qua questo fa 12 kill e il secondo ne fa 2 io qui ne faccio 5 e il primo ne fa 4 boh sempre le squadre del cazzo me devono appiopà si capisci ma una volta che riesci sai trovi una squadra che difende quando c'è da difende la navetta attacca la navetta no niente loro fanno dei kill eeeh dei kill bimbi minchia de merda che giocano a call of duty pure qua altro gioco del cazzo come call of duty quindi me lo stanno a me lo volete far diventare ma io ci gioco lo stesso brutte merde se vi è piaciuto questa puntata servisodio con questo tipo di modalità di star wars mettete un pollice in su se non vi è piaciuto mettete un bel pollice in giù iscrivetevi al canale venite a visitarmi sulla mia pagina facebook e trovate come al solito sotto in descrizione che vi devo dire fate come vi pare ciao